Partiamo con il nostro digiuno e intermettenza. Molto di voi mi state scrivendo su digiuno e intermettenza, mi state facendo tante domande su digiuno e intermettenza e volevo affrontare questo tema che preferisco chiamare 3. Ho fatto tantissimi webinar su digiuno e intermettenza e voglio adesso legarlo a digiuno e intermettenza alla menopausa. Perché molte persone si sono fissate che questo digiuno e intermettenza è una sorta di dieta, non è una dieta. Time Restricted Eating è più corretto perché il digiuno e intermettenza dà l'impressione che non mangi più. Digiuno, vedo sempre che ho digiunato, ho fatto questa dieta solo proteggo, solo con tre mesi, non ho fatto, sono forte. No, allora ragazzi chiedi qualsiasi nutrizionista ti darebbe le battine sulle mani. Allora innanzitutto Time Restricted Eating vuol dire che c'è una finestra specifica quando mangio. Digiuno e intermettenza vuol dire digiuno per una finestra della mia giornata e poi c'ho la finestra di mangiare per un'altra parte della mia vita. Ed è legato a un nuovo percorso mio molto molto sentito e molto personale. Sto facendo nuovi webinar sul mio sito online dedicato a questo riprogrammare il nostro subconscio. Perché vedo tantissime persone partire con una dieta o un allenamento o qualche cosa per se stessi e poi gettano la spugna e tornano indietro o dimagriscono e poi riprendono i chili. Io addirittura ho visto persone fare l'intervento di impicciolire lo stomaco, ok, non lo so, a chiudere, tagliarlo, fare, riengrassare, ritornare obesi, nonostante che hanno fatto l'intervento. Perché? Perché se io non cambio dentro di me un pensiero, un credo che merito di stare bene anche in menopausa, che merito di stare magro anche in menopausa, che veramente posso mangiare e comunque stare in forma e gettare questo vecchio pensiero nocivo. Perché i pensieri nocivi purtroppo hanno un risposto chimico sul nostro benessere, genetica, epigenetica sul nostro cellule, ma questo lo sto facendo su webinar sul mio sito online. Andiamo a parlare di di digiuno ad intermettenza e perché applicarlo nella fase di menopausa? Perché digiuno in intermettenza, io adesso con questo con questo live vi spiegherò, vuoi dimagrire in una settimana? Molto facile. Non mangiare dopo cena. Per due ore, tre ore prima di andare a letto, non mangiare prima di andare a letto. Se tu smetti di mangiare alle otto, vai a letto alle dieci, smetti di mangiare dopo le otto. Questo include alcool, biscotti, qualsiasi cosa, yogurt. Ah ma il yogurt è sano, no? Il yogurt comunque ha proteine, ha zuccheri e ti darà un picco insulino che non ti fa bruciare i grassi di notte. Perché se noi facciamo digiuno in intermettenza, lasciamo il nostro corpo a fare al meglio quello che fa con i ritmi circadiani. Quando arriva il nostro menopausa o nostro andropausa o cominciamo a invecchiare, i nostri ritmi circadiani cominciano a piattirsi, a piattirsi e l'apitudine, ok, di un ritmo circadiano è molto importante anziché essere così un po' piatto. Se è piatto il nostro povero corpo non sa se deve fare qualcosa o non farlo. Invece quando ha, ora dormi, ora svegli. Cioè quanto di voi avete mai sofferto di insonnia? E allora tutta la notte in bianco, non dormi di notte ma di giorno ti dormite a tre di pomeriggio. Quello vuol dire i ritmi circadiani che sono stati appietiti e che non stanno funzionando a meglio e magari cominciano a creare infiammazione nel corpo e quando creiamo infiammazione nel corpo e ineschiamo, diciamo, la risposta fight or flight che vuol dire lotti a fuggire. Se faccio lotti a fuggire, tutta l'energia che butta zucchero nel sangue, glucosio nel sangue, alzi l'insulina, perché c'è un picco insulinico e dopo c'è un picco glicemico, giusto? Perché serviva. Poi l'energia, il mio test dice ok, c'è un pericolo, sono stressata, c'è un pericolo, devo lottare a fuggire, mi serve energia. Così c'è glucosio nel sangue, picco glicemico, dopodiché c'è un risposto insulina, che diventa troppo insulina e sregoliamo anche, diciamo, la sensibilità di insulina nelle nostre cellule e resistenza insulina, che è che cosa? Percursore di diabete di tipo 2. Poi, secondo voi, tutto il sangue che viene derivato ai vostri muscoli per lottare e fuggire, viene da del scalpito di che cosa? Apparato digerente. Ecco perché cominciate ad avere problemi dei gastriti, problemi del vostro tiroide, problemi della vostra viscere, problemi dell'intestino irritabile e problemi delle intolleranze, perché poi, se non c'è un giusto flusso sanguigno, ha le nostre viscere, diventano porosi e se diventano porosi cominciano l'infiammazione nel corpo e l'infiammazione è la prima cosa che ti fa invecchiare. Poi, si chiama inflameging, l'infiammazione che fa invecchiare. Così, partiamo perché digiune e l'intermittenza è così efficace nel nostro periodo di menoporosa, perché abbiamo un forte sbalzo di ormonale, cambiamento di tutto, e a quel punto il nostro metabolismo si rallenta, non riusciamo più a dormire bene, cominciamo a sudare al momento sbagliato e abbiamo bisogno, all'ennesimo potenza, di regolare i nostri ormoni e i nostri ritmi circadiani, circa di anni, circa un dia, circa un giorno, circa di anni, perché ci sono anche i ritmi ultradiani e infradiani, ma non ne parliamo adesso. Così, time restricted eating vuol dire mangerò soltanto nelle finestre, ben preciso durante l'arco della mia giornata, ok? Non è non mangio più, anzi, è quando mangio nella finestra metterò tutto quello che mi ha detto il nutrizionista da mangiare, che può essere 12-12, che è la prima, ogni 12, almeno 12 ore, però andiamo avanti così, sii gentile con te stessa, perché molte persone, pam, allora c'ho la menopausa, oh cielo, sto invecchiando, sto ingrassando, e cominci ad attaccarti, anziché essere il tuo migliore aliato, sii gentile con te stessa, quando abbiamo un momento psicologicamente complicato come menopausa, dobbiamo essere nostro primo amico o amica, ovviamente amica, perché i uomini non passano nemmeno pausa, però mi avete capito. Allora, non essere schiavi di te stessa né delle dieta, allora ci sono delle persone che fanno keto, vegana, carnivoro, ok? E digiuno, se volete fare queste cose, può essere un'alternanza, non mettere nel digiuno anche un pranzo, non un pranzo, una dieta ristrittiva, perché già stai ristringendo le finestre quando mangi, quando mangi devi prendere tutte le calorie che ti servono. Per la lunga, un stile di vita per essere fattibile deve essere realistico. Non so perché il mio computer sta cantando, il mio computer sta cantando, perché il mio computer sta cantando? Non lo so, non lo so, il mio computer sta cantando. Va bene, sai, ha che qualcosa fare con Facebook, ti ringrazio, non so che sta succedendo, ma va bene così. Allora, aspetta, aspetta, mi sono perso le mie slide. Eccoci qua. Sii gentile con te stessa, non essere schiava di te stessa, non aggiungere ansia su ansia, perché ansia su ansia ti aumenta l'infiammazione nel corpo. Per la lunga, digiuno e intermettenza è la cosa più facile da mettere in atto, perché una volta che in strada la tua finestra, che può anche essere 10, 14, 9, 15, dipende da te, per te da 12, 12, può essere finisco a mangiare le 8, ricomincio a mangiare le 8 della mattina dopo, le dice Volter Longo, dai, e fa, non è una dieta, non è una dieta, devi soltanto stare attentissimi, non mangiare dopo cena, devi andare a cena digiunato di almeno 2, 3 ore. E ai ragazzi ti cambia la vita in 7 giorni, se lo fai, ti garantisco, se riesci a essere bravi a non darti il dolce della buonanotte, nel latte, nel miel, niente, tu vedrai come dormi, ok? E il corpo, cioè quando dico che il corpo non ha la ripetitività, perché questo è un webinar più lungo, che non vado comunque a approfondire. L'autostimolo, non l'autocura. Allora, ogni azione di self preservazione è un atto di amore verso noi stesse. E io posso avere e trattarmi bene con digiuno e intermettenza, perché il digiuno è super salutare, ma dobbiamo dosarlo per rimanere nella zona di salute e non nelle zone di estremismo. Perché quando parlo di digiuno e intermettenza, voglio essere sicura che non cominciamo a innescare. Se tu hai problemi o hai avuto problemi, serie di anorismo, anorismo, Anoressia o bulimia, è meglio che non fai digiuno all'intermittenza, perché il problema è che potrebbe innescare una cascata di qualcosa che vogliamo evitare, perché quando cominciamo fare digiuno all'intermittenza, non voglio far scattare nessun tipo di trip mentale, però è veramente efficace il digiuno all'intermittenza, veramente funzionale in menopausa perché ci aiuta con i ritmi circadiani, che ci aiuta con il sonno, che ci aiuta con il metabolismo, ci aiuta con gli armoni che stanno impazziti e ci aiuta su diversi fronti. Darti spazio per essere umano, stressare il corpo quando il corpo è già stressato non fa bene al corpo. Per questo io voglio affrontare il digiuno all'intermittenza, vi spiego come farlo, ma noi dobbiamo farlo non per dire, oh cielo, io sono fuori forma, voglio perdere adesso 20 chili in 20 giorni. Digiuno all'intermittenza non è perché perdere chili, anche se perderai chili. Digiuno all'intermittenza è per migliorare i ritmi circadiani, ormonali, per aiutarti a vivere meglio. Un corpo che è in salute ti garantisco, dormendo meglio, avendo le energie per fare un sano allenamento e avendo gli ritmi circadiani che funzionano bene, è un corpo che sarà in forma. Il corpo ha un suo naturale composizione corporeo e equilibrio del peso corporeo, quando sta bene, quando sta a nomeostasi, quando non è troppo stressato. Piccoli stress fanno bene. Un stress di un allenamento di 15 minuti fa bene. Stare sotto stress tutti i santi giorni, dalla mattina alla sera, dove non puoi più controllarti l'ansia perché sei stressato per traffico, stressato per la dieta, stressato per menopausa, stressato per lavoro, stressato per covid, stressato per questo, è uno stress nocivo. Dobbiamo andare, aiutarvi a ritrovare l'equilibrio e sono qui per questo, ok? E in minuti che smetti di controllare tutto, tutto diventa controllabile e più sereno. Cioè, è molto strano queste cose, ma non conosco una persona che non è un po' fissata con il cibo, ma quando, in minuti che tu vedi il cibo per quello che è, cioè un fonte energetico, e ti trovi l'equilibrio, smetti di fissare il cibo. Quando sai che comunque, allora io posso cominciare a mangiare all'undici, per finire alle otto di sera, ok? Te lo sai, e non è più, ok devo mangiare all'undici. No, no, tu lo sai, quella è la mia finestra e pensa che in uno studio universitario fatto su Cell Magazine, penso che è questo, hanno preso dei topolini, hanno fatto tre, time restricted eating, finestra ristretto di quando potevano mangiare e poi gli altri potevano fare ad libitium, cioè potevano mangiare quando volevano. Ovviamente i topolini che erano magri sono diventati obesi, gli obesi sono diventati più obesi di quelle che potevano mangiare quando volevano mangiare. Quelle che hanno fatto digiuno in intermettenza, notturno, perché loro sono animali notturni, e la nostra finestra di digiuno in intermettenza ha anche un momento durante la giornata dove deve essere poggiato, detto questo, però vi faccio vedere velocemente che cos'è il digiuno in intermettenza. I topolini che erano obesi su digiuno in intermettenza non solo sono dimagriti, ma hanno espresso o ridotto l'espressione di 57 geni di invecchiamento, si chiama una risposta epigenica. Rumori strani. Ok, le risposte epigeniche. Si sono riusciti a rallentare il processo di l'espressione di 57 geni legato all'invecchiamento con digiuno in intermettenza. vede perché mi piace il digiuno in intermettenza e lo faccio da 7… da quanti anni faccio? 6-7 anni. Allora, digiuno… ciclare tipologie di digiuni, tutto serve, i carboidrati servono, non cominciate a dire che i carboidrati non servono perché Sasha Sorrentino tirerà le tue orecchie, le mie orecchie, ok? Pianificare i pranzi e brunch con gli amici e interrompere il digiuno ogni tanto, ricorda che il corpo si abitua a tutto e prova di risparmiare energia. Cioè, se io faccio sempre il digiuno e intermettenza, troverò una nuova omeostasi, troverò un nuovo equilibrio e quando trovo quel nuovo equilibrio potrebbe essere che… cioè, essere troppo fissato su tutto non va bene. Io quello che ti sto provando di dire è che per vivere bene dobbiamo pensare alle lunghe e cambiare stili di vita. E digiuno e intermettenza è una stile di vita. Perché? Che dollari devono essere mandati durante le finestre di nutrimento? I topolini che avevano la finestra ristretta potevano mangiare come quegli altri, anche quelle che si chiamano the western diet, patettine, grassi saturi, hamburger, tutte quelle che mangiano i americani. E nonostante che mangiavano tutto cibo a spazzatura, si sono dimagriti e avevano un risposto ormonale migliorato. Questo non è una scusa di dire, oh, faccio digiuno e intermettenza, mangio quello che caspita mi pare. No, perché c'è time restricted eating e poi c'è front loading e poi ci sono diverse cose che sono eccellenti da fare dentro digiuno e intermettenza. Però ti spiego che come hai ragione il tuo corpo. Allora, il nostro corpo di giorno brucia zuccheri e di notte brucia grassi. E se io mangio, se riesco a non mangiare per 2-4 ore prima di andare a letto, quando andrò a letto già a fase di digiunato, già che non c'è più glicemia nel mio corpo, diciamo nel mio sangue, mi permette di cominciare a carburare i grassi di notte, che mi permette l'autofagia che è una pulizia naturale del mio corpo che pulisce tutto. Quando dormo più profondamente mi aiuta del sistema glinfatico con la G, glinfatico a sciacquare via l'amaloide beta che crea l'Alzheimer, mi aiuta il cervello di rigenerarsi di notte e tutte quelle cose positive. Che cos'è il digiuno e l'intermettenza? Il digiuno e l'intermettenza si calcola nel seguente modo. Andiamo a calcolarlo. Ok, prima cominciamo a 12-12. Se tu stasera mangi alle 8, domani mangi alle 8 di mattina. Questa è la cosa più semplice, 12-12. Subito, ma dopo che hai fatto 12-12, il primo passaggio è 13-11. Vuol dire 13 ore di digiuno e 11 ore di mangiare. Se finiscono a mangiare alle 8 di sera, farò prima colazione domani alle 9. E lo fai questo per diverso tempo, lo fai per un paio di settimane. Fino ad arrivare, a lungo andare, al massimo a 16-8. Andare oltre 16-8 è rischio anoressia perché è difficile mangiare tutte le calorie che ti serve di più. Non pensare, ho fatto 23-1, sono una forza. Non sei una forza. Il corpo vuole equilibrio, il corpo vuole dormire, il corpo vuole momenti di attività. Il corpo vuole bruciare zuccheri, il corpo vuole bruciare i grassi, il corpo vuole… è molto importante trovare quello che si chiama omostasi. Non possiamo sempre essere felici e non dovremmo essere sempre tristi. Ma io non posso… è molto importante trovare l'equilibrio. Quando trovo l'equilibrio, anche i miei ormoni trovano l'equilibrio. Così, il calcolo per fare il digiuno e l'intermettenza è di calcolare l'ultimo minuto che mangi la sera. Proviamo di legare quel minuto la sera di almeno 2-4 ore prima di allettarti. Ok? Non ti parlo oggi di front-loading, lo parlerò un'altra volta perché lo so che siete molto curiosi del digiuno e l'intermettenza. Però cominciamo così. Se noi… se riuscite a fare 13-11 giado domani sarebbe eccellente. Così finisco oggi a mangiare alle 9 di sera, comincerò a mangiare alle 10 del giorno dopo. E anche meglio mangiare presto. Se puoi mangiare alle 7 e mezza, finire a mangiare per le 8 sarebbe ottimale. Cioè quella è veramente la soluzione migliore per il corpo. Ma anche dipende anche sul tuo cronotipo perché ci sono persone come me che sono mattinieri che si svegliano all'alba e non hanno problema ad essere performante all'alba. Poi ci sono i nottamboli che vivono un po' più le ore notturne e ovviamente questo è un altro… quello è crononutrizione. Oggi digiuno e intermettenza è digiuno per una finestra e mangio per una finestra. Il mio corpo ama la costanza ma ogni tanto shaker up. Che vuol dire? Se faccio digiuno e intermettenza per 5 giorni, 13-11 e sono ligio a dovere. Quello che mangio dentro la mia finestra dipende di quello che dice mio nutrizionista, è basato sul mio composizione corporeo, quanto sport faccio, se sono femmine, se sono uomo, se sono adulto, bambino. Cioè quello è singolare e te la può dire soltanto un nutrizionista. Ma puoi prendere quello che ti dice nutrizionista e metterla nella finestra del tuo digiuno e intermettenza. Provi di andare a letto digiunato, ti garantisco sogni d'oro, veramente sogni d'oro e vedrai la pancia che si rilassa in meno di 7 giorni. E l'altra cosa è ridurre lo stress nell'organismo. Questo è molto importante e si può ovviamente ridurre lo stress con mindfulness, concentrandosi sul rispiro, ci sono tante cose che sto lavorando su mie palestre online, però queste settimane c'è anche il stress block che ho creato con Sasha Sorrentino sul mio sito, stress block, che aiuta a ridurre l'eccessivo produzione di cortisolo nel corpo e c'è due piante, ashwagandha ovviamente che dormo meglio proteggo il cervello, meglio rigenero il collagene, meglio sostengo il metabolismo, più riduco il fiamme nervoso e mi aiuta a svegliare la carica. Se io non dormo bene non avrò né la concentrazione né la voglia né l'energia per allenarmi. L'altra cosa c'è il fosfitidilserina che proprio aiuta a ridurre la produzione eccessiva di cortisolo per tutti i miei amici che dicono non dormo bene, sono stancata, ho la pancia, vedo che sono proprio questa pancetta, la pancetta è sempre sinonimo di uno che non dormo bene e probabilmente molto stressato. Ovviamente per le mie amiche che sono in menopausa, caffè verde, questo è un altro, questo è il primo integratore che ti consiglio per metabolismo, se vieni da medici sono in menopausa, mi sta cambiando i ormoni, mi sta sbagliando, cellulite sta arrivando, c'è perché molti di voi state scrivendo, caffè verde power la mattina per il nostro metabolismo, stress block la sera per il nostro, il sonno è per ridurre proprio lo stress, digiuno e intermettenza, molto facile da applicare alla vostra vita, calcolandola da stasera, parti con 13-11 e poi con il tempo vedrai che puoi aumentarlo con il tempo. Che cosa rompe il digiuno e intermettenza? Zuccheri e proteine, così la mattina tisana senza zucchero, caffè senza zucchero, puoi bere l'acqua, c'è un americano che parla anche del bulletproof coffee, che è MCT oil, che è medium chain triglyceride oil, olio di cocco che ha questa specifica lunghezza di grassi che ti permettono di avere più energia, quello lo puoi fare, bulletproof coffee, lo frulli il tuo caffè con questo MCT oil, però lo spiegherò in un altro live, però digiuno e intermettenza è veramente qualcosa di potente, specialmente se stai in menopausa, perché ti aiuta proprio le curve e gli ritmi circadiani. Io parlerò di crononutrizione, parlerò degli ritmi circadiani perché sono il segreto di invecchiare bene, veramente il segreto di invecchiare bene. Se volete trovare anche altri tutorial, lo potete trovare sul mio sito gilcooper.it che è il mio negozio o altrimenti sulla mia palestra online nel gilcooper.com dove sto facendo adesso un webinar dedicato a riprogrammare il vostro subconscio che aiuta a eliminare il passato per aiutarti ad essere nel futuro molto più performante. Va bene? Vi auguro un weekend favoloso e ricordate che tutto è possibile, non gettare la spugna perché veramente puoi fare tanto con digiuno e intermettenza, l'integrazione giusto e un pizzico di movimento per vivere bene anche in menopausa. Pace dalla Gil, passate una serata fantastica. Grazie. Grazie a tutti.